Buongiorno cari genovesi, io sono Tatiana Zakarova, molti di voi mi conoscono perché siete abituati a vedermi in un altro ambiente, adesso sono a casa mia come tutti noi per emergenza sanitaria, per emergenza coronavirus e magari siete abituati a vedermi davanti all'ingresso del Carlo Felici cantando, oppure in via Garibaldi cantando sempre le aree d'opera oppure le romanze russe, oppure siete abituati a vedermi nella comunità di Sant'Egidio dove faccio la maestra del coro, ogni sera alle sette e mezza che facciamo le preghiere, ovviamente non si può fare adesso, oppure siete abituati a vedermi alla scuola Contubernio d'Albertis dove faccio le lezioni di musica ai bambini piccolini, però in questo periodo io sto a casa come maggior parte di voi, di noi, è un sacrificio che dobbiamo fare, purtroppo, ma per il bene di tutti. Pag. 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 Pag.